Antonio su Facebook mi chiede, che fine ha fatto Kane? Beh, di tanto in tanto si presenta ancora in WWE, ma solo per occasioni speciali, come di recente il ritiro di Undertaker. A patto però che la federazione faccia delle donazioni alle associazioni che operano nella contea di Knox, in Tennessee, di cui Kane è sindaco, essendo stato eletto come primo cittadino per il Partito Repubblicano nell'estate del 2018. L'avreste mai detto? È successo davvero! Kane che governa oltre 430.000 cittadini, ovviamente senza la maschera e con giacca e cravatta. Tra l'altro i più istruiti sapranno anche che non è il primo wrestler che ottiene importanti ruoli politici. Jesse DeBody Ventura, ad esempio, è stato governatore del Minnesota, oppure in Giappone Antonio Inoki ha fatto parte della Camera dei Consiglieri e molti altri ci hanno provato con alterne fortune. Insomma, l'America si conferma davvero la terra delle opportunità, là dove qualunque cosa può diventare realtà.